La liquirizia ed il sistema cardiovascolare. L'esagerata assunzione di liquirizia può costituire una causa nascosta di aritmie ed ipertensione. La liquirizia infatti contiene glicirizzina. La glicirizzina è un composto naturale presente nella liquirizia, estratto dalla radice della pianta glicerizia glabra. È responsabile del caratteristico sapore dolce della liquirizia e ha una varietà di usi sia in ambito alimentare che addirittura terapeutico. Dal punto di vista chimico la glicirizzina è una sapolina triterpenica, una classe di composti noti per la loro proprietà emulsionante e schiumogena. È circa 50 volte più dolce del saccarosio, motivo per cui è ampiamente utilizzata come dolcificante naturale in vari prodotti alimentari. Oltre alla sua proprietà dolcificanti, la glicirizzina possiede anche alcune proprietà medicinali. È stata studiata per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie, antivirali e immunomodulatorie. Tuttavia è anche nota per i suoi effetti collaterali, in particolare sull'equilibrio idroelettrico e sulla pressione sanguigna. Se consumata infatti in quantità eccessive o per un lungo periodo di tempo, la liquirizia o meglio la glicirizzina può causare squilibri elettrolitici, in particolare una riduzione dei livelli di potassio e un aumento dei livelli di sodio nel sangue. Queste alterazioni chimiche possono causare un aumento della pressione sanguigna. Inoltre un consumo eccessivo può anche influenzare gli equilibri di sodio e potassio nel corpo, portando ad uno squilibrio degli elettroliti. Tutto ciò può causare problemi come la ritenzione di liquidi, edema e debolezza muscolare. Mantenere i livelli adeguati di potassio è fondamentale per il cuore e come detto la glicirizzina, si è assunta chiaramente in grandi quantità, può ridurre i livelli di potassio nel sangue e tale riduzione può alterare anche il ritmo cardiaco. Anche la Food and Drug Administration infatti da tempo ha messo un allarme, ci ha messo in guardia, contro un consumo eccessivo di liquirizia che può avere un impatto negativo appunto sul ritmo cardiovascolare. La glicirizzina quindi contenuta nella liquirizia può generare, come abbiamo detto, una deplezione di potassio e un aumento dei livelli di sodio. Ribadisco però che per arrivare a questi effetti il consumo di liquirizia deve essere davvero elevato. Non è certo una conseguenza che può derivare da un consumo occasionale o molto contenuto di liquirizia. Una riduzione di potassio, oltre a un aumento dei valori di pressione arteriosa, può portare, come detto, all'insorgenza di aritmie. Per questo motivo gli individui con ipertensione o aritmie o altre affezioni cardiovascolari devono prestare maggiore attenzione al consumo di liquirizia perché il livello di potassio di questi pazienti non viene quasi mai monitorato, aducendo magari ad altre cause l'insorgere di anomalie o dei sintomi cardiovascolari. In sintesi quindi la liquirizia può avere effetti significativi sul sistema cardiovascolare ed in particolare se consumata in grandi quantità. Questi effetti includono l'aumento della pressione sanguigna, squilibri elettrolitici, alterazioni del ritmo cardiaco e un potenziale rischio di aritmie. È importante che le persone con condizioni preesistenti come ipertensione arteriosa o aritmie siano particolarmente attente al consumo di liquirizia. Grazie. 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 Grazie.